La dieta mediterranea è uno strumento fondamentale di salute perché di fatto attraverso quella che è la qualità degli alimenti che noi mangiamo sia inteso come macroalimenti ma sia come vitamine, come apporto idrico costituisce un elemento importante in una delle colonne della nostra salute, del nostro benessere. Non di meno non dobbiamo dimenticare che la dieta mediterranea va inserita in un contesto molto più ampio che va oltre a quello che noi mangiamo ma anche nel movimento, nell'attività fisica, nello stile di vita nell'abolizione della sedentarietà e allo stesso modo in quella che è la gestione dello stress della vita quotidiana. Le indicazioni ai cittadini direi sicuramente di mirare alla salute come bene primario attraverso un atteggiamento attivo. Attivo significa davvero cercare di cambiare il proprio stile di vita nel movimento, nella dieta, nella risposta allo stress e soprattutto non improvvisare. Ormai esistono delle conoscenze importanti anche scientifiche per cui vi sono dei professionisti che si occupano di nutrizione, di alimentazione, di movimento e di psiche e certamente spesso il primo approccio deve essere con loro per impostare quello che è un approccio personalizzato e non generale, spesso infruttuoso se non dannoso.